Ciao, io sono Olivia, dell'Equipe di Pastorale Giovanile Vocazionale. Ritornate a me con tutto il cuore, il podcast di Quaresima della diocese di Montepulciano Chiusi Pienza. Il Vangelo di oggi. In quel tempo, Gesù vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle imposte, e gli disse «Seguimi», ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. E ora condivido questa parola del Signore. A me questa parola dice che anche quando ci sentiamo soli, abbandonati dal mondo, oppure quando abbiamo tutto e pensiamo che non ci manchi nulla, Gesù è lì, è lì e ci sta chiamando, in qualsiasi posto ci troviamo, a scuola o al lavoro, e non gli importa se siamo pubblicani o peccatori, perché Lui vede solo il nostro cuore, sta poi a noi lasciare tutto e seguirlo. Per seguirci e ricevere i prossimi podcast, iscriviti al canale YouTube della diocese di Montepulciano. Ciao e il Signore ti doni la sua pace. Questo è il luogo pensato che Dio ha scelto per te, questo è il tempo pensato per te, quella che vedi è la strada che Lui è la strada che Lui traccerà, quello che senti, l'amore che mai finirà. E andremo e annuncieremo che in Lui tutto è possibile, e andremo e annuncieremo che nulla ci può a vincere, perché abbiamo udito le sue parole, perché abbiamo veduto di te cambiare, perché abbiamo visto l'amore vincere, sì abbiamo visto l'amore vincere. questo è il momento che Dio ha atteso per te, questo è il sogno che ha fatto su te. quello che vedi è la strada tracciata per te, quello che senti, l'amore che ti accompagnerà. e andremo e annuncieremo che in Lui tutto è possibile, e andremo e annuncieremo che nulla ci può vincere, perché abbiamo udito le sue parole, perché abbiamo creduto di te cambiare. perché abbiamo visto l'amore vincere, perché abbiamo visto l'amore vincere, sì abbiamo visto l'amore vincere. e andremo e annuncieremo che in Lui tutto è possibile, e andremo e annuncieremo che nulla ci può vincere, perché abbiamo visto l'amore vincere. perché abbiamo visto l'amore vincere, perché abbiamo visto l'amore vincere. Questo è il tempo che Dio ha scelto per te Questo è il sogno che aveva su Dio Il sogno che aveva su Dio